Bentornati ad una nuova parte di Mario Sonic Geek Olimpici di Rio 2016 Con un nuovo evento plus e oggi facciamo il lancio del giavellotto plus Che ovviamente abbiamo già fatto nella modalità storia Ma per chi fosse interessato solo all'evento Abbiamo Mario, Sonic, Knuckles, Wario, Skelo Bowser, Omega E quindi io direi invece di usare il classico Wario Useremo Skelo Bowser giusto perché è un po' diverso dal solito Skelo Bowser Pronti? Via! Super tiro E siamo primi attualmente Quindi in teoria adesso ce ne potrebbe anche fregare altamente di fare bene Questo l'ho fatto abbastanza schifoso direi Beh oddio si Abbastanza schifoso Ma neanche così tanto alla fin fine Comunque sarei arrivato secondo con questo tiro Ok l'ultimo tiro Pronti? Via! Vediamo con questo Attenzione! Con questo ho fatto addirittura meglio Incredibile Benissimo siamo arrivati i primi Selezioniamo un nuovo personaggio Giusto per... non so... fare anche Wario Vediamo cosa riusciamo a fare con Wario Che bello Oddio non so se ho fatto bene E ho fatto bene E ho fatto bene Incredibile Siamo primi Siamo primissimi Questo questo ce lo impugno Oh Oh non so se ho fatto bene anche questo Infatti ho fatto Infatti ho fatto meno di prima ma comunque da secondo posto Come prima in realtà Cioè come prima nel turno di Skelo Bowser Skele Bowser Non mi ricordo mai come si chiama Ok Ok Ah questo non l'ho fatto molto bene Non so se l'ho fatto bene Non so se l'ho fatto bene perché C'erano pochi giavellotti Infatti Questo sarebbe stato da quarto posto Comunque Abbiamo fatto il primo tiro da primo posto E va bene così Alla fin fine E quindi due medaglie d'oro di seguito E a noi ci va bene anche così Quindi ragazzi Spero vi sia piaciuto il video Con due personaggi di Mario Mettete un like se vi è piaciuto Un dislike se non vi è piaciuto Commentate e condividete Noi ci rivediamo al prossimo video Sempre qui Non dimenticate di iscrivervi Se non l'avete ancora fatto Per far crescere il canale Mi raccomando Io conto su di voi E noi quindi ci rivediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao